E' ben trovati con l'informazione di TRMH24. In primo piano la cronaca, la comunità di San Marzano di San Giuseppe in lutto per la morte di Mario Pisano a seguito della strage della centrale di Suviana a Bologna. Nella stessa giornata l'incidente in cui è rimasto folgorato l'operaio Angelo Cotugno, originario dello stesso paese, il cui sindaco dichiara ora il lutto cittadino. Ascoltiamo. San Marzano di San Giuseppe piange due vittime sul lavoro in un solo giorno. Dopo infatti la notizia del decesso di Angelo Cotugno, l'operaio morto mentre lavorava sul cantiere della regionale 8, nel tratto che collega Taranto ad Avetrana, è arrivata anche la conferma dell'identità di una delle tre vittime della strage, dell'esplosione della centrale idrica di Suviana sui colli bolognesi. Si tratta di Mario Pisano, 73 anni, originario proprio di questo comune, di poco meno di 8 mila abitanti. Allora noi ascoltiamo lo sgomento della comunità a partire dal primo cittadino. Una tragica coincidenza per quella che è una comunità piccola e che nel giro di un giorno addirittura vive due morti sul lavoro. Ieri mattina non avevamo neanche fatto in tempo ad iniziare a elaborare il lutto brutto di Angelo e che ha lasciato una famiglia, una moglie e ben tre figli, che abbiamo ricevuto la notizia di Mario Pisani da Bologna, nel tragico evento di Bologna. Due padri di famiglia, nel caso di Mario anche nonno di ben cinque nipoti, quindi un evento particolarmente tragico, che coinvolge tutta la comunità perché di fatto erano due persone molto conosciute in paese, motivo per il quale noi stiamo valutando il lutto cittadino perché voi per questioni di parentela o di amicizia, bene o male, tutta la comunità conosceva o Angelo o Mario e quindi ci sembra giusto pensare a questo momento che in qualche modo li possa ricordare. Sindaco, una morte è sempre qualcosa di doloroso, una morte sul lavoro però possiamo dire che è tragica. Assolutamente, una morte è sempre dolorosa ma se avviene per fatalità, per un incidente in auto è chiaramente tragico ma non ci puoi fare molto, però se avviene sul lavoro nel 2024 non dovrebbe avvenire. Chi esce da casa per andare a lavorare dovrebbe tornare non soltanto vivo ma anche sano perché oltre alle morti sul lavoro questo paese, inteso come Italia, vede ogni anno dei numeri impressionanti relativamente alle morti sul lavoro e gli incidenti sul lavoro. Proprio qualche giorno fa, prima della giornata dedicata al Santo Padrono, abbiamo inaugurato nella piazza del paese la panchina dell'Anmil proprio per ricordare le vittime sul lavoro, sia di incidenti mortali che di incidenti gravi. E così dovrebbe fare ancora tanto e la giornata di ieri ne è un esempio plastico. Fermo restando che bisogna aspettare e capire quali sono state le dinamiche, questo è ovvio. Continuiamo con la cronaca. Due feriti che non dovrebbero essere in pericolo di vita. Quanto emerge a seguito dell'accoltellamento avvenuto questa mattina in un bar a Melfi in provincia di Potenza da parte di un uomo di 44 anni. L'individuo ha aggredito una giovane donna e si è poi scagliato contro il barista che era intervenuto in sua difesa. Secondo la prima ricostruzione, alla base dell'aggressione da parte dell'uomo ci sarebbero degli attriti che sono avvenuti insomma in passato. La donna è stata trasportata in eleambulanza mentre in codice rosso il ragazzo 28enne è stato trasportato al San Giovanni di Dio di Melfi. Cambiamo argomento. In Basilicata 537.000 residenti e nuovo record di denatalità. A stabilirlo sono stati i dati diffusi dall'Istat. Ascoltiamo. Alla fine del 2022 i residenti in Basilicata erano 537.577, ovvero lo 0,9% della popolazione italiana e ben 3.591 in meno rispetto all'anno precedente, con un nuovo record di denatalità essendo nati 3.221 bambini, ovvero 109 in meno rispetto al 2021. Sono alcuni dei dati più significativi del censimento permanente della popolazione diffusi dall'Istat. Dai numeri emerge che l'età media è di 47 anni rispetto al 46,8 del 2021. Matera è la provincia più giovane con una media di 46,4 anni, potenza quella più anziana con la media di 47,4. Gli stranieri censiti sono 24.211, ovvero 2027 in più rispetto al 2021 e quindi il 4,5% della popolazione regionale. Provengono da 137 paesi, prevalentemente da Romania, 29,8%, Albania, il 10,8% e Marocco, 7,9%. Il 33,9% dei Lucani vive in comuni con popolazione fra i 1.000 e i 5.000 abitanti e poco meno di un quarto, parliamo del 23,1%, a Potenza e a Matera. In Basilicata il comune più piccolo è San Paolo Albanese, in provincia di Potenza con 210 abitanti. Per quanto concerne le caratteristiche fisiche dei comuni, il 59,5% sono montani e accolgono meno della metà della popolazione, mentre in quelli di collina interna vive il 42,1%. Infine, nei sei comuni di Pianura risiede il 13% della popolazione lucana. E cambiamo argomento. A partire dal 15 aprile, le imprese pugliesi potranno accedere al fondo ISI per investimenti in sicurezza e sostenibilità. Un'opportunità per tutti i settori, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca, sottolinea il direttore Inail Puglia. Dal 15 aprile al 30 maggio, le aziende pugliesi potranno partecipare all'avviso ISI promosso dall'Inail per accedere a finanziamenti a fondo perduto per interventi destinati alla sicurezza sui luoghi di lavoro e all'acquisto di mezzi a basso impatto ambientale. La Puglia ha a disposizione un totale di 25.431.509 euro, 9 milioni in più rispetto allo scorso anno. Un'occasione da non sprecare, poiché nel caso in cui non dovessero pervenire abbastanza domande, i fondi andranno persi. Tra i settori maggiormente interessati dal fondo c'è il comparto agricolo. I fondi per l'agricoltura, infatti, sono pari a 7 milioni di euro. Con il bando ISI 2023, l'Inail mette a disposizione delle imprese pugliesi oltre 25 milioni di euro per migliorare concretamente le condizioni di lavoro. 25 milioni ripartiti in 5 assi, segnalo l'asse 5 con oltre 7 milioni di budget destinati alle imprese agricole e ai giovani agricoltori. L'avviso viene presentato proprio nelle ore in cui la Puglia è scossa dalla morte di due operai originari di San Marzano di San Giuseppe nel Tarantino avvenute sui luoghi di lavoro. Che tipo di risposta può arrivare alle famiglie e alla comunità? Noi come Inail cerchiamo di essere i più tempestivi possibili, abbiamo tempi medi di erogazione praticamente vicini allo zero. Noi riteniamo che il nostro obiettivo principale sia quello di eliminare la condizione di bisogno che un evento così grave genera. E quindi il nostro impegno è tutto indirizzato a far sì che le indennità siano erogate nei tempi più rapidi possibili. Ovviamente la nostra azione non restituisce ai cari la persona scomparsa, però per quello che ci compete cerchiamo di essere i più efficienti possibili. A settembre apre Cardiochirurgia a Foggia. L'ufficializzazione durante il corso la rivascolarizzazione miocardica nel 2024. Ascoltiamo i dettagli. La cura delle patologie cardiovascolari è in continua evoluzione. Anche la rivascolarizzazione miocardica vive continui cambiamenti. Il corso promosso a Foggia dalla Società Italiana di Chirurgia Cardiaca e dall'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri si muove proprio su questi temi. Negli ultimi anni si sono sviluppate tecniche innovative per la chirurgia mini-invasiva, per l'utilizzo di stent sempre più evoluti. Insomma, oggi cerchiamo di coinvolgere in sinergia queste specializzazioni al fine di portare anche nel territorio da uno delle conoscenze più aggiornate. A Foggia la Cardiochirurgia partirà a settembre. Parola del Direttore Generale del Policlinico. Faremo di tutto per partire a settembre di quest'anno. Quindi ci auguriamo che il prossimo convegno, il Policlinico di Foggia partecipi con un reparto attivo, produttivo, che dia una risposta veramente di grande qualità. E la nostra sfida più importante è il 2024. Noi abbiamo chiuso i risultati del 2023, ma anche il 2023 con un'importante crescita, sia in termini di volumi che di qualità, dell'attività sanitaria. Ovviamente la nostra sfida, adesso ripeto, del 2024 è un'apertura di un reparto di eccellenza come la Cardiochirurgia. Si parla di potenziamento della medicina territoriale. Questa apertura sarà un accreditamento in questo senso? Ma la Cardiochirurgia è il terminale anche della medicina territoriale. Siamo un po' un hub, ma poi c'è tutto il territorio che deve lavorare meglio. Io penso che lo si sta facendo. Bari è capitale del digitale, grazie all'iniziativa promossa dall'economista Nicolò Andreula. Ascoltiamo. Bari si riafferma capitale della digitalizzazione grazie all'evento ABCD che il 12 e il 13 aprile porterà nel capoluogo pugliese studenti, professionisti e i big delle grandi imprese del digitale. Mille partecipanti per promuovere momenti di confronto e buone pratiche. ABCD, a Bari, la capitale del digitale, nasce dall'iniziativa dell'economista Nicolò Andreula ed è coorganizzato dalla Regione Puglia. Al centro dei lavori i temi legati al South Working, all'occupazione, all'innovazione, ma anche al social marketing e alla sostenibilità. Quattro temi fondamentali sono la sostenibilità, diversità e inclusione, l'intelligenza artificiale e l'incontro sconto tra generazioni. Da qui passa il binario per il progresso economico e sociale, altrimenti sarà solo un avanzamento tecnologico che non farà bene a molti. Bari è open for business, cioè il fatto che Bari è spesso vista come una città dove la gente vuole tornare, dove chi è nato qui e se ne è andato vuole ritornare. Noi proponiamo Bari come una capitale digitale dove la gente vuole arrivare, dove persone da fuori vengano a investire, dove chi non ha neanche mai studiato qui o è venuto solo in vacanza decida di aprire un'azienda, decida di fare smart working, anzi south working. L'evento andrà in scena in tre differenti location, Spazio Murà, Ex Mercato del Pesce e il Teatro Cursal. Bari è già capitale digitale, non solo nella nostra regione ma nel mezzogiorno e in questi anni sta crescendo in maniera incredibile generando un attrattore. L'altro tema è non solo capitale come luogo di riferimento ma come capitale umano e quindi oggi è uno dei principali aggregatori di capacità e competenze ed è diventato un attrattore che ha fatto sì che tantissime imprese venissero a investire qui a cercare le competenze, a cercare quel capitale umano. Il terzo appuntamento annuale che facciamo con questa organizzazione, con Diesel Consulting, ci tengo a dirlo, è un appuntamento gratuito per i fruitori e a costo zero per la regione. Siamo riusciti a fare ciò che in altre regioni costa tantissimo perché a Milano, a Rimini, a Bologna, partecipare a questi eventi per i ragazzi è particolarmente oneroso. 25esima edizione della Milanesiana, la rassegna ideata da Elisabetta Sgarbi, la Basilicata protagonista. Vediamo. La Basilicata torna alla prestigiosa rassegna culturale La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Il programma è stato presentato al Piccolo Teatro Grassi di Milano con la partecipazione tra gli altri del direttore di APT Antonio Nicoletti. Giunta alla 25esima edizione, la Milanesiana, fin dal primo anno, si propone come grande laboratorio di eccellenza di letteratura, cinema, musica, arte, scienza e filosofia. Il progetto è quello di incrociare saperi e arti diverse portando a Milano le eccellenze internazionali del mondo culturale e scientifico. Ogni anno la Milanesiana, che si svolge in altre 25 città d'Italia, affronta un tema che caratterizza e attraversa l'intera edizione, quello del 2024 e la timidezza e i suoi contrari. La Basilicata entra nel programma culturale con due eventi, una mostra e un libro. Basilicata, una terra tra le nuvole, viaggio tra i fumetti di ambientazione lucana, esprime il rapporto tra la terra lucana e l'arte del comis con una serie di tavoli originali realizzate da alcuni tra i più importanti autori nel corso degli ultimi 30 anni. Sarà presentato poi il volume, voluto da PT e Regione, Basilicata, curiosità d'arte attraversando i borghi lucani, curato dal critico d'arte Gabriele Scarcia. Un viaggio alla scoperta di opere d'arte cosiddette minori, ma che invece rappresentano storie altrettanto importanti delle tante piccole comunità, troppo spesso tenute ai margini della cultura ufficiale. Con le storie e le curiosità svelate da Scarcia, ci si immerge in una letteratura nuova e divertente del patrimonio culturale dei borghi lucani. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguiti e arrivederci.